L'episodio accaduto nella tarda mattinata di lunedì 28 ottobre ha visto protagonista un anziano signore di Nardò che, invece di fermarsi all'alta, a quanto pare perché sorpreso alla guida col cellulare, ha investito una vigilessa allontanandosi poi rapidamente. Il fatto è avvenuto tra l'angolo tra Viale Marconi via Cavour. La vettura che risulta essere intestata a un 72enne di Nardò, invece di fermarsi, ha proseguito con la marcia colpendo l'agente della polizia locale che aveva provato a fermarlo per un controllo stradale. La donna, una 45enne leccese, è stata ferita alla gamba e soccorso immediatamente da un collega e dei passanti che hanno assistito alla scena. Accompagnata al pronto soccorso del DEA dell'ospedale leccese, al termine delle medicazioni del personale 118, la vigilessa è stata sottoposta alle cure e poi agli accertamenti clinici. Fortunatamente le condizioni non sono gravi. Immediata la ricerca del veicolo fuggito. Nei confronti del responsabile dell'investimento pende già la denuncia per l'accaduto su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce. Le accuse sono quelle di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.